la tendenza più nuova è quella del passato a Morciano Fieri il 19-20 novembre Vinten Glam il nuovo evento dedicato al vintage lifestyle e al remake abbigliamento, borsi, accessori, bijoux, design e pezzi unici proprio come te cerca Vinten Glam su Facebook e dici mi piace info e ticket ridotto